No, lei lo vuole fare. Allora, ragazzi, dove siete? Un giù, un giù. Onde, onde, dove siete? No, no. La Sicilia è un giro in Marcolano. No, io l'ho in Marcolano. Allora, ragazzi, un'alzonità, un giro, 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 un giro. Osservate, osservate. Tu stesso, io mescolo il giro. Io mi faccio un po' di scherzo, io mi faccio un po' di scherzo. Allora, tu stessi, metti giù. Mettili, metti giù. Per dirgli su una carta che vuoi tutti i tuoi, e tu la facciamo, e tu la facciamo, e tu la facciamo. Allora, tutti i testimoni che ho messo a dire su questa carta, poi ancora se vuoi cambiarti, non è vero. Giori giù, guarda la verona. Guarda la camera, guarda la verona. 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 E' un senso di lavoro, ma sei contato. Sì. Bene, ora siamo d'accordo che tutto ci stiamo mescolando con il numero piccolo. Tre. Se con l'ingotteria ci fosse la tua casa, come lo definiresti? La tua vita. La tua vita. Le possibilità sono 2700 su 52 per 52. Una qualità assoluta. Tu stesso togli tre cose. Uno. Due. Signore e signori. E questa è l'esplanazione. Un applauso, un applauso, un applauso, un applauso. Vada, 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 vada. Hai preso tutto, ho preso un miracolo. Questo è un miracolo. Ok, bellissimo. E se io senti a fare, ha in testarmi? E' un bel sei. Eppure le frutte hanno un risultato. No, è un bel libro? Non è un'esplosione, non è un'esplosione, non è un'esplosione. è stato 10 anni mesi